Hai capito che Marc Caltagirone non esiste. Non esiste. Ridimmelo. Non esiste. Ho incontrato il vero uomo della mia vita. Lo amo da morire, è un uomo meraviglioso, un uomo da altri tempi, che mi sta dando quello che ho sempre desiderato, una famiglia. Noi abbiamo preso in affidamento due bambini. È una fede? È una fede, sì. È proprio una fede? È proprio una fede. Come quella del matrimonio? Non come, è quella del matrimonio. Oddio, brinchi. Eh sì. Un sacco di motivi che ci fanno pensare che non tutto quadri. Questo Marco Caltagirone esiste veramente o è uno sposo immaginario? Esiste o no, Marc? Esiste. Esiste. È tutto pronto per il matrimonio? Fate solamente alzando. Qualche la conoscete bene? Noi stiamo alzando lì. A breve ci sarà un'esclusiva televisiva e vedrete il signor Marco. Ah, così pensiamo di raccogliere. Da subito mi ha detto, io non voglio comparire. E perché io devo costringerlo a comparire? Comparirà il giorno che ci sposeremo. Io sono vera. La nostra storia è vera. E quindi noi ci amiamo da morire. Quindi mi dispiace per voi se non ci credete. È un vostro problema. Non è un nostro problema. Basta, basta. Devono smetterla. Davvero. Ci sono nel paese dei problemi molto più grandi che preoccuparsi di me e rovinarmi un momento così bello. Non ne posso più. Non ne possiamo più. Addirittura sono stata stregata dalle mie due agenti. Ma stiamo scherzando. Ne stanno facendo veramente un giallo. Tutti che si mettono in mezzo. Sono loro che stanno strumentalizzando noi. Capisci Silvia? Basta. Ho correlato tutti. Tutti. La mia domanda è tu sei Marco o Marc Caltagirone? Io sono Marco, sì. Sei Marco Caltagirone, giusto? Io, sì. Tu quindi sei il futuro marito di Pamela? Di Pamela, certo. Di Pamela Prati. E vi sposate fra una settimana? Dovremmo sposarsi fra una settimana, sì. Marco Caltagirone esiste. Fra sette giorni sarà in chiesa. Auguri! Viva gli sposi! A questo punto si tratta della grande truffa del gossip. Si prendono favole, storie inventate, è la carne che alimenta le trasmissioni, diciamo quelle tutte di intrattenimento televisivo. Si vendono queste storie, queste favole e loro ci hanno guadagnato. Queste due signore hanno preso per i fondelli tutti voi. Se fosse vero che è una truffa, io mi incazzo molto. Non potete essere così. No, per dire. Ma voglio dire, ma è possibile che al giorno d'oggi, nel 2019, non esista una fotografia di questo signore? Ma esiste? Ma dove? Ma come non esiste? E allora basta dire che è stata la plagiata. Basta dire che Marco non esiste. Esiste e come se esiste? Io guarda, io ti giuro che ti vorrei credere, ma è impossibile crederti. Dov'è Pamela? È andata via? Se n'è andata? Va bene. Posso dire, posso fare una conclusione, non so se ti ritornerai Eliana, è tutto veramente una barzelletta che non fa neanche più ridere. Questo non è un tribunale, ma certo che no. Te l'ho detto già prima, sono venuta per l'educazione. Ma io ti faccio delle domande semplici, Pamela. Non voglio rispondere a nessuna domanda, Barbara, ti prego. E allora sei venuta qui a dire ciao? Certo. Ah, ok. Eh sì, a dire ciao. Bene, scusate, davvero pubblico. Io vi prego. Ho detto faccio entrare Eliana. Vado via perché io non voglio più rispondere a nessuna domanda. Ma non te le ho neanche fatte. Ciao, Pamela! No, no. Ok, perfetto. Avete in affido due bambini. Non voglio parlare dei bambini. Tu non voglio parlare di cose personali, private. Ma come non vuoi parlare di cose personali? Ma sono cose nostre. Ma certo che l'avevo lui. È vero che ha avuto le minacce con l'acido? Non voglio parlare di queste cose. Marco Altagirone esiste o non esiste, Eliana? Non esiste. Non esiste? Per me non esiste. Tutto finto. L'ha telefonata a me? Non so chi è. Non era lui. Perché ho visto quel video e la voce non era uguale alla... Non era uguale. Quindi devo sapere chi è. Allora, guarda... Io cercavo di chiederti aiuto guardandoti. Hai capito che Marc Caltagirone... Non esiste. Non esiste. Ridimmelo. Non esiste. Non esiste. L'ho capito proprio in questi giorni. Fino all'ultimo io ho creduto, veramente. E lo dicevo anche a me stessa. Non riesco a pensare che tutto questo alla fine non sia vero. Capisci? Per come l'ho vissuto. A me è stata proposta la fiabba che ho sempre desiderato. L'uomo ideale. La famiglia che ho sempre desiderato. Io ho paura. Perché non so chi c'è dietro a tutta questa situazione. Quindi io sono spaventata, Silvia. Grazie a tutti.